Grazie a questo webinar, questo è il trentatresimo webinar del ciclo di innovazione digitale e oggi parleremo di sicurezza cibernetica, iniziative e azioni per amministrazioni più sicure. Io sono Michela Di Pitonto di Formats.pi e oggi abbiamo con noi due esperti di sicurezza informatica di Agid, Alessandro Sinibaldi e Corrado Giustozzi, quindi oggi avremo questi due relatori che sicuramente ci apriranno un po' le prospettive riguardo la sicurezza cibernetica. Vedo che già siete 200 collegati, vi ricordo prendo un po' di tempo per dare modo a tutti di collegarsi a quest'aula webinar e vi ricordo che questo ciclo di innovazione digitale è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agide e Formats.pi, Italia Login e Servizi Digitali, con l'obiettivo di agevolare il lavoro delle amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale. Quindi il percorso che stiamo seguendo in questo ciclo, appunto siamo arrivati al trentatresimo webinar, è quello di seguire quello che sta avvenendo nell'ambito delle politiche di innovazione digitale italiane ed europee. Facendo un po' di numeri riguardo a questo ciclo, si sono svolti 32 webinar con 96 relatori, quasi 15.000 partecipanti e anche le nostre visualizzazioni su YouTube, quindi le registrazioni dei webinar sono arrivate quasi a più di 17.500 visualizzazioni e come vedete abbiamo anche un buon gradimento 4,4 su 5, quindi siamo molto soddisfatti di questa operazione di diffusione che stiamo facendo. Il cardine, la base dalla quale siamo partiti è il modello strategico di evoluzione del sistema informativo dell'APA che troviamo nel piano triennale redatto da Agide, quindi i temi che abbiamo affrontato in questi webinar sono stati tantissimi, tutti focalizzati comunque sulla digitalizzazione, quindi sulla trasformazione digitale, abbiamo parlato di infrastrutture immateriali, quindi speed, PA, di infrastrutture fisiche, data center e cloud, di dati, di DAF, di progettazione di servizi digitali e anche di sicurezza, appunto che è il tema di oggi, quindi vi ricordo che sulle nostre pagine di Eventi PA potete andare a rivedere i webinar che vi interessano. Il tema di oggi è quello della sicurezza, quindi vediamo insomma in questo modello strategico è il pilastro sinistro di questo modello strategico, quindi ovviamente sta alla base di tutto, cioè è un pilastro portante insomma di tutta l'infrastruttura tecnologica che si sta cercando di disegnare. Quindi oggi parleremo con Alessandro Sinibaldi delle nuove linee guida per la sicurezza nella pubblica amministrazione e con Corrado Giustozzi parleremo di CertPA, dei servizi per le pubbliche amministrazioni. Appunto il tema di oggi è quello della sicurezza cibernetica, quindi come ci possiamo proteggere dagli attacchi che appunto le nostre amministrazioni potrebbero subire. Oggi sempre più stiamo mettendo in campo dati, servizi, quindi in qualche modo le pubbliche amministrazioni si devono proteggere da tutto questo. Quindi oggi siamo molto curiosi di sapere quali sono le iniziative di Agi dal supporto delle pubbliche amministrazioni e cosa possiamo fare ognuno di noi per proteggersi da tutto questo. Quindi invito tutti a porre domande in chat ai relatori, noi le selezioneremo e le porremo al termine del loro intervento e come sempre la registrazione e i materiali condivisi dai nostri docenti verranno pubblicati su Eventi IPA, quindi le slide le pubblicheremo subito dopo il webinar e la registrazione nel pomeriggio. Quindi in questa pagina troverete tutti i materiali e la registrazione. Alla fine daremo spazio alle domande e risposte, quindi al termine di ogni intervento porremo le domande al relatore. Allora io direi a questo punto di iniziare, vedo che già siamo 265, quindi darei la parola a Alessandro Sinibaldi di Agit per entrare nel vivo del tema di oggi sulla sicurezza cibernetica, quindi chiedo a Alessandro Sinibaldi di attivare il suo microfono e la sua webcam, perfetto, buongiorno Alessandro. Buongiorno Michela, buongiorno a tutti, allora io sono Alessandro Sinibaldi, appunto sono Cyber Security Expert del chat PA presso Agit e oggi vi parlerò di uno dei diversi progetti sulla cyber sicurezza che in questo momento Agit sta seguendo e in particolare l'oggetto del webinar saranno le nuove linee guida per la sicurezza dell'APA, queste linee guida si pongono in un certo senso sulla scia e come naturale completamento del lavoro che è stato iniziato l'anno scorso con le misure minime di sicurezza. Le linee guida che vedete oggi sono in realtà ancora work in progress, ci stiamo ancora lavorando, ma l'obiettivo è quello di rilasciarle a inizio dell'anno nuovo, saranno aperte alla consultazione da parte di tutti e quindi tutti quanti potranno contribuire con consigli, suggerimenti e quant'altro necessario. Di cosa parleremo oggi? Ci sono sostanzialmente 4 punti principali, i riferimenti, un modello a 3 livelli, 10 principi di sicurezza e il rapporto tra le linee guida e le misure minime. Prima di tutto inizieremo a vedere quali sono stati i riferimenti, cioè su cosa effettivamente ci siamo basati per poter scrivere questa proposta di linee guida di sicurezza per tutta la pubblica amministrazione. In realtà come vedete sia per quello che riguarda le misure minime già emanate che per le linee guida e sulla sicurezza, abbiamo fatto un lavoro che in realtà non è specifico per le pubblica amministrazione, è così secondo me valido e generale che può valere per qualunque realtà ci possa essere, quindi anche imprenditoriale, industriale o quant'altro. Perché fare delle linee guida? Le linee guida hanno l'obiettivo diciamo di configurarsi come principi ispiratori, cioè devono dare quella che noi indichiamo come la vision e quindi devono essere di carattere più generale possibile e applicabile al più vasto numero di situazioni concrete. Noi abbiamo scelto appunto come vi dicevo un modello a 3 livelli che vedremo tra qualche istante e abbiamo deciso di enunciare queste linee guida, c'erano varie possibilità, quella che ci è sembrata più indicata era quella di enunciarle come 10 principi di sicurezza, quasi come fossero in un certo senso 10 comandamenti. L'obiettivo principale che ci siamo posti è che fossero delle linee guida sufficientemente snelle e facili da descrivere in modo che sia semplice anche per tutti memorizzarle. Infine chiuderemo il giro cercando di capire come le linee guida si pongono, che rapporto scena tra le linee guida e le misure minime per la sicurezza sono state già emanate. Iniziamo subito con i riferimenti, per quanto va a riferimenti quelli principali sono stati questi 4, in particolare i primi 2, il Generally Accepted Information Security Principle, GISP, la versione 3 che è del 2004 ma in realtà è ancora ben valida e qui vi ho lasciato anche il link ai siti web dove scaricarvi i documenti e poi le linee guida dell'Ox sulla sicurezza dei sistemi e delle reti di informazione, anche questo del 2002. Oltre a questo ovviamente c'è di base ISO IEC 27001 che è in qualche modo il riferimento principale. L'idea di ISO 27001 nello specifico è quella di pensare in qualche modo a una piramide in cui le policy di sicurezza vengono espresse da un livello più generale possibile nella parte alta fino a essere istanziate in policy di dettaglio e poi linee guida, regolamenti, procedure e quant'altro, andando dall'alto verso il basso si va da una situazione di più maggiore astrattezza a una situazione di maggiore concretezza. La parte alta della piramide, cioè quella delle linee guida, è quella che di solito secondo ISO 27001 viene espressa dal management dove con questo termine intendiamo tutti quelli che in qualche modo hanno la responsabilità di quanto viene fatto e soprattutto hanno anche i cordoni della borsa, cioè qui giustamente senza le risorse necessarie si può far poco per cui è importante che il management sia coinvolto nelle iniziative che vengono fatte e soprattutto quelle della sicurezza. Il management di solito nella parte alta le linee guida vengono espresse in una serie di affermazioni più o meno generale come potrebbe essere la frase questo ente mette in atto tutte le best practices necessarie per garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità delle informazioni trattate. Questa indica appunto la vision, il resto dell'organizzazione ovviamente non è valida di per sé ma deve essere subito seguita a ruota da delle policy più di dettaglio, per esempio policy per il controllo degli accessi, delle policy per l'accesso remoto e così via. Ognuna di queste poi a sua volta deve dar luogo a delle procedure di dettaglio cose da seguire proprio nella realtà di tutti i giorni. Infine il quarto principio ispiratore è il nostro riferimento ovviamente sono le misure minime per la pubblica amministrazione che sono già state emanate. Il modello a tre livelli che vi dicevo è questo che potete vedere, in alto troviamo i principi che come abbiamo detto finora hanno una forma generale e questi principi devono dare quelle che sono in un certo senso le motivazioni, cioè devono spiegare perché vogliamo occuparci di sicurezza, cioè quali sono i problemi fondamentali che intendiamo risolvere. Subito dopo scendendo verso il basso e andando via via, cioè dall'alto verso il basso in una situazione di maggiore concretezza, troviamo le misure o contro misure di sicurezza che invece esprimono più dettagliatamente il cosa deve essere fatto per poter istanziare i principi che abbiamo espresso. Subito dopo al terzo livello troviamo le regole tecniche che sono l'implementazione del mondo reale delle misure e sono quelle come dice il nome appunto contengono i dettagli tecnici. Andando verso il basso scendiamo via via a un livello sempre maggiore di dettaglio ma aumenta anche la variabilità, tant'è che come potete vedere qui nell'immagine, ho fatto magari graficamente non eccellente, ma insomma i principi hanno come sfondo del ferro le misure di sicurezza del legno e le regole tecniche in qualche modo la sabbia, cioè nel senso che i principi vengono enunciati in modo che siano il più inalterabili possibile, le misure di sicurezza invece possono essere variabili e le regole tecniche invece essendo legate alla situazione concreta reale, in particolare all'evoluzione normativa, all'evoluzione delle metodologie, all'evoluzione della potenza dei calcoli e quant'altro sono quelle che diciamo possono cambiare più velocemente. Se vogliamo, visto che ci stiamo avvicinando sostanzialmente al periodo natalizio, un'immagine inerente, potete pensare che i principi siano in qualche modo la stella cometa, le misure di sicurezza, le immagini, le regole tecniche siano l'oro, l'incenzo e la mira. Stamattina mi sono svegliato con questa graziosa immagine e ve la ripropongo a voi esattamente così. Per darvi un'idea di che cosa vuol dire avere tre principi, possiamo vedere in questa slide appunto in alto un'affermazione generale come potrebbe essere quella esprimibile in una policy di alto livello o in un principio che appunto devono essere garantiti la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei documenti trattati dalla pubblica amministrazione. In particolare dalla parola confidenzialità deriva il fatto che gli utenti devono essere identificati, autenticati e ora noi sappiamo che quando si tratta di autenticazione degli utenti in generale si possono seguire tre paradigmi diversi, sono ciò che si è, ciò che si ha o ciò che si sa. Allora partiamo dall'ultimo e ciò che si sa per esempio è una password, un pin, ciò che si ha è per esempio un badge, una carta come può essere per esempio nel caso del Bancomat e ciò che si è invece è relativo alla biometria, cioè a qualche dettaglio, a qualche particolarità che ci portiamo addosso come può essere l'iride, può essere l'impunto digitale e quant'altro. Il fatto che la nostra policy di alto livello richieda che venga garantita la confidenzialità comporta come abbiamo detto il fatto che gli utenti devono essere identificati e autenticati e nel nostro caso scegliamo per esempio che siano autenticati con un username e una password, si tratta quindi di una possibilità di autenticazione come si dice a un fattore, nel caso in cui noi decidessimo di unire altri fattori, questa per esempio è un ciò che si sa perché è la password che va conosciuta, se decidessimo per esempio di metterci anche un ciò che si ha come può essere un badge, una smart card o quant'altro, allora sarebbe un'autenticazione a due fattori o più in generale a molti fattori, se mettessimo tutte e tre le cose insieme e quindi anche per esempio un controllo biometrico sarebbe un'autenticazione a tre fattori, ovviamente tanto maggiore il numero di fattori che vengono inclusi, tanto maggiore è la sicurezza che si ottiene. Nel nostro caso abbiamo deciso per esempio che l'utente venga identificato, autenticato con un username e una password e a questo punto a livello successivo dobbiamo esprimere a livello di procedura operativa come sono fatte queste password, quindi le password devono essere lunghe per esempio a almeno 8 caratteri, contenere numeri, letteri e caratteri speciali. Come vedete il terzo livello, questo più in basso della regola tecnica è abbastanza concreto e quando vi dicevo prima che andando dall'alto verso il basso aumenta la variabilità, si capisce facilmente perché uno dice per quale motivo le password devono essere fatte per forza 8 caratteri, perché se uno pensa a un sistema che ha forza bruta per calcare le password, che si basa ovviamente sulla potenza di calcolo del computer, si mette lì e prova tutte le password addizionari o comunque in modo più o meno casuale e variabile finché non trova quelle giuste, con le potenze di calcolo attuali magari in ambienti che non richiedono, che non hanno particolari esigenze di sicurezza, 8 caratteri possono andare più che bene. Se un domani la potenza di calcolo dovesse continuare ad aumentare, 8 caratteri magari non saranno più sufficienti perché magari nel giro di qualche minuto un programma a forza bruta riesce a calcarle, quindi si passerebbe per esempio a 10, 12 caratteri o cose del genere. Quindi mentre il nostro requisito di base, cioè il fatto che sia garantita la confidenzialità, continua a rimanere inalterato e magari continua pure a rimanere inalterato il fatto che usiamo soltanto ciò che si sa, cioè le password, in realtà poi a livello più basso potremmo avere la variabilità di come è fatta la password. Un domani ancora, cioè in un tempo un po' più lungo potrebbe succedere che magari l'autenticazione a un fattore non è più sufficiente, si decide di andare verso un'autenticazione a due fattori e quindi cambierà la misura di sicurezza, cioè quella a livello di mediano, però la parte alta continua ancora a rimanere inalterata. Iniziamo adesso a vedere quali sono questi famosi 10 principi che vi dicevo, cioè quelli che secondo noi dovrebbero essere più generali possibili e poter tenere di conto di tutte le varie situazioni che ci sono. Il primo principio è il principio di inventario e si potrebbe riassumere sostanzialmente nella massima conosci te stesso, intendendo con ciò che si deve sapere e soprattutto documentare quali sono i propri asset, cioè quegli enti, persone, immobili, software, hardware, servizi, processi, competenze, dati, archivi e qualunque cosa vi possa venire in mente e dove si trova il valore. Valore è un termine che compare nelle metodologie di analisi del rischio che è un termine abbastanza generale, non si intende soltanto un valore economico, ma un qualsiasi valore io possa dare a dei dati, può essere anche la foto della nonna che ha un valore affettivo, può essere per esempio un archivio che ha valore perché racconta la memoria storica di un ente o un'organizzazione, ma può essere per esempio se nel caso di un law onlus il valore potrebbero essere i diritti umani, quindi è un concetto astratto che ha varie sfaccettature. Oltre a questo è importante conoscere dal punto di vista della sicurezza quali sono le minacce a questi asset, che sono la minaccia definita in generale come qualsiasi cosa che può diminuire il valore dell'asset, prima abbiamo detto che un asset ha un valore, quindi questo valore può diminuire se una minaccia intercorre. le vulnerabilità e quali sono i rischi a cui si è sottoposti, conoscere gli asset vuol dire anche per esempio conoscere le configurazioni, in ognuno dei principi che vi enuncerò abbiamo fatto vari esempi di sicurezza fisica e logica e quanta organizzativa e quant'altro per darvi un'idea di avere il polso subito sul concetto. Questi termini qui che vedete in grassetto sulla slide sono i termini tipici dell'analisi del rischio che vi riporto per completezza in quest'altra slide, gli asset sono sostanzialmente che cosa voglio proteggere, le minacce sono da cosa mi voglio proteggere, le vulnerabilità perché mi voglio proteggere, facendo un esempio se un asset è un anello che è posizionato su un tavolo all'interno di una casa, una minaccia può essere un ladro che desidera rubare quell'anello e quindi azzerare il valore economico che abbiamo, le vulnerabilità sono per esempio il fatto che quella casa è dotata di porte e di finestre attraverso cui la minaccia, cioè il ladro può passare per rubare l'asset è chiaro che se la nostra casa per esempio non fosse fatta di porte e non avesse porte e finestre automaticamente non avremmo vulnerabilità e quindi la nostra minaccia per quanto esistente, il nostro asset per quanto esistente non potrebbe agire sull'asset appunto per rubarlo perché se non c'è vulnerabilità non c'è problema e quindi diciamo non c'è rischio. Le contomisure rispondono invece alla domanda come posso proteggermi, cioè sono tutte quelle misure appunto che io che controllo e posso mettere in atto di vario tipo, preventivi, detettivi, cautelativi, quello che volete per poter fare in modo che la minaccia non sfrutti la vulnerabilità e agisca sull'asset. Un esempio di contomisure, sempre proseguendo su quello che dicevamo prima, può essere una porta blindata, un allarme, un poliziotto alla porta, è quello che potete pensare. Il concetto di rischio è centrale per la sicurezza perché se io dovessi definire in poche parole che cos'è la sicurezza, la sicurezza è la gestione del rischio. Il secondo principio è il principio di attribuzione e si può riassumere la frase conosci chi fa cosa e cosa fa cosa ha fatto o farà. Dal punto di vista organizzativo questo vuol dire attribuire responsabilità chiare ai ruoli coinvolti in un processo. Dal punto di vista tecnologico bisogna gestire il logging e il monitoring degli eventi, in particolare quelli riferiti alla sicurezza. Dal punto di vista logico vuol dire gestire le autorizzazioni in modo corretto ma anche gestire i flussi di dati, cosa va a chi e gestire le operazioni sui dati. Tipicamente queste operazioni sono in gergo indicate con l'acronimo CRUD, cioè crea, read, legge, modifica, update, elimina, delete. Sono tutte le 4 operazioni fondamentali che possono essere fatte sui dati. Quindi il principio di attribuzione vuol dire attribuire responsabilità chiare e soprattutto stabilire dei controlli degli accessi e quant'altro. Il principio della pervasività invece potremmo esprimerlo con la frase la sicurezza deve essere come un abito. Bisogna porsi nella situazione in cui la sicurezza è pervasiva nella propria organizzazione. Dal punto di vista applicativo questo vuol dire per esempio sviluppare codice in modo sicuro secondo il paradigma SD3 che vuol dire secure by design, secure by default e secure by deploy. Se avete presente il GDPR, il GDPR per esempio chiede che la privacy sia secure by design e secure by default. Dal punto di vista organizzativo nei progetti è sempre presente una persona con competenze di sicurezza per analizzare gli aspetti relativi. In una situazione ideale in ogni organizzazione ci dovrebbe essere un rappresentante, un responsabile della sicurezza che è a capo di un team di persone più specialistiche con competenze sempre di sicurezza. Nel momento in cui l'organizzazione e il caso della pubblica amministrazione è tipico il lavoro per progetti, nel momento in cui si accende un nuovo progetto, automaticamente in modo più trasparente possibile viene assegnata una persona da questo team di sicurezza che seguirà il progetto stata facendo, soprattutto nella fase di analisi e si dovrà preoccupare di mettere in evidenza tutti gli aspetti relativi alla sicurezza che possa avere. Il progetto in generale è attingendo alle definizioni del project management, un qualsiasi insieme di attività che ha una durata fissata, cioè un inizio e una fine fissata con degli obiettivi. Di solito alla fine di quando è finito il progetto, che è temporaneo, arriva il momento in cui viene messo in produzione il risultato del progetto. Quindi è importante che il team della sicurezza segua il progetto stato facendo fino ad arrivare alla produzione, proprio perché la sicurezza deve esserci fin dall'inizio. Dal punto di vista logico vuol dire usare metodologie standard e best practice, si sviluppano policy e ci si accetta che vengono seguite, si fanno audit regolari e così via. L'obiettivo finale è che la sicurezza sia il più trasparente possibile agli utenti, cioè questi siano così ben formati, security awareness, che pensare e agire seguendo le best practice della sicurezza diventi automatico. Ora io lavorando nel certo piano, mi trovo spesso nelle situazioni in cui noi, avendo come nostra mission la gestione degli incidenti informatici, capita ovviamente che in una situazione di incidente informatico ci sia il panico, perché al momento in cui si verifica il problema, le persone si trovano di fronte a una situazione inattesa. Questo deve cambiare il più possibile, perché non ci dovrebbero essere situazioni inattese o perlomeno deve essere stabilita una procedura da seguire in modo ferreo nel momento in cui si verifica un incidente di sicurezza, proprio perché le persone devono essere così ben formate che nel momento in cui si scatena una situazione potenziale di panico, abbiano già nel loro DNA gli anticorpi giusti, cioè si trovano già a fare le operazioni corrette, per esempio in una situazione di incidente informatico può succedere che a un certo punto arrivi il momento di raccogliere le prove, le cosiddette evidenze, per poterle dare per esempio a un'autorità giudiziaria. È importante quindi che nel momento in cui si risponde all'incidente ci si comporti in un modo tale da non alterare queste prove, ma da garantire comunque l'evidenza nei confronti dell'autorità giudiziaria. Il principio della ridondanza invece può essere espresso con la frase tutto ciò che ha valore per un'organizzazione deve avere una copia o un possibile sostituto. Dal punto di vista fisico per esempio questo si traduce in infrastrutture di rete ridondate, il fatto per esempio anche di avere due diversi switch a cui sono collegate tutte le periferie di rete, due diversi collegamenti a internet di due provider diversi, di modo che se la rete di uno dei due cade si può comunque passare all'altra. RAI 5 per gli hard disk, utilizzo di backup regolari, server in load balancing o in cluster, locale o geografico, tanto meglio, e più in generale assenza di single point of failure, cioè non ci devono essere dei singole periferiche, singole cose che nel momento in cui cadono si blocca tutto. Questo stesso concetto tradotto in termini organizzativi vuol dire che non ci devono essere uffici gestiti da una sola persona, competenze possedute solo da una persona e così via. Dal punto di vista logico occorre utilizzare laddove possibile l'autenticazione a più fattori, cioè quello che dicevamo prima, invece che uno soltanto e inoltre l'utente deve poter accedere a un servizio tramite più canali, per esempio sportello, web, mobile, perché è chiaro nel momento in cui ci sia per esempio l'indisponibilità di uno dei canali, non si blocca tutto, ma può continuare magari il procedimento anche su altri canali. Il principio del minimo, che sembra in un certo senso il contrario di quanto detto quel principio della ridondanza, in realtà ho trovato questo proverbio cercando di esemplificarlo, che è con il poco si gode, con il molto si tribola. A prima vista appunto, dicevamo, questo principio sembra antitetico rispetto al precedente, ma in realtà si cresce subito pensando che mentre gli asset, cioè le cose importanti, quelle dove si trova il valore, devono essere ridondati, il contrario invece deve valere su tutto ciò che non è importante. Quindi dal punto di vista della sicurezza questo si traduce nella minimizzazione della superficie d'attacco, ad esempio installando sulle periferiche solo i servizi strettamente necessari. Dal punto di vista logico bisogna fare review periodiche per accertarsi che tutto ciò che non serve più, come ad esempio vecchie utenze ancora presenti, sia eliminato. Le autorizzazioni devono seguire i criteri del minimo privilegio e del need to no. Questi sono due paradigmi importanti di base della sicurezza, il minimo privilegio vuole dire che le persone dovrebbero avere esclusivamente i privilegi, cioè le possibilità di fare quello che il loro lavoro gli richiede, non dovrebbero avere la possibilità di fare altro in più. Il need to no è invece la stessa cosa sostanzialmente dal punto di vista dell'informazione, cioè le persone dovrebbero sapere esclusivamente le cose che serve loro per fare le loro attività quotidiane. Dal punto di vista organizzativo si dovrebbero evitare procedure non necessarie, i processi dovrebbero essere semplificati, le catene di comando accorciate e così via. Il principio del miglioramento continuo invece si traduce nella constatazione che si può e si deve sempre fare di meglio ed è anche un riflesso del fatto che il mondo evolve e non dobbiamo rischiare di rimanere indietro. Di fatto è un invito a cavalcare il cambiamento, prevedendolo, facendolo proprio e non facendosi sorprendere. Dal punto di vista della sicurezza logica questo ribadisce l'importanza di fare assessment con continuità allo scopo di capire dove si è e dove si potrebbe andare. Non so se vi è mai capitato, ma molte metodologie, molti standard internazionali prevedono spesso l'esistenza di cosiddetti livelli di maturità, cioè di solito i requisiti vengono, soprattutto di sicurezza, vengono divisi in blocchi dove a ogni livello corrisponde un determinato blocco. Si parte di solito dal livello più basso, che è quello in cui non si sa generalmente di cosa si sta parlando, si arriva poi a un livello 1 in cui qualcosa si incomincia a muovere, si comincia ad avere una percezione più o meno vaga che esiste per esempio la problematica di sicurezza da risolvere. A livello successivo è il livello cosiddetto degli eroi, questo è un quadro che in realtà non vale soltanto per la sicurezza ma anche per altri standard, quindi ci sono degli eroi, delle persone particolarmente attente al problema che iniziano a praticare delle best practice, delle metodologie e piano piano questi eroi si fanno portatori di questa nuova visione all'interno dell'azienda, quindi cominciano dell'organizzazione in generale, cominciano a fare proselitismo, finché a un certo punto tutta l'organizzazione del suo compresso comincia a percepire il problema e adottare queste metodologie. Fino a questo livello, siamo andati via via crescendo, fino a questo livello siamo ancora reattivi, non siamo in grado di prevedere quello che succederà, e soprattutto di cavalcare quello che succederà, ma siamo soltanto reattivi. A livello più alto invece l'organizzazione è così ben skillata, le competenze sono così ben assestate nelle persone che si diventa proattivi, siamo in grado di anticipare il cambiamento, gestirlo e trasformarlo soprattutto da una situazione di rischio a un'opportunità. Immagino che tutti avete sentito la famosa storia del carattere cinese e del rischio che indica anche opportunità, perché è chiaro, nel momento in cui esiste una situazione di rischio potenziale, cioè c'è una carenza, dall'altra c'è anche un'opportunità perché c'è la possibilità di colmare questa carenza. Inoltre, tornando al nostro slide, è importante che ci sia predimento continuo da parte di pendenti e in particolare di che coinvolto nella gestione della sicurezza. Bisogna tenersi sempre al corrente delle novità in campo tecnologico, normativo, di sicurezza e quant'altro. E la gestione dei rischi deve essere sempre aggiornata, uno dei lavori quotidiani del responsabile della sicurezza dovrebbe essere sempre quella di conoscere esattamente gli asset che ci sono nella propria organizzazione e capire quali possono essere le minacce che evolvono continuamente. Noi che abbiamo a che fare con i malware dalla mattina alla sera sappiamo che esistono sempre nuove possibilità per attaccare le persone e non a caso poi il social engineering che è alla base della mancata formazione della persona e la marcata, sostanzialmente il marcato approccio mentale corretto alla sicurezza è uno dei canali che quotidianamente viene più sfruttato. Il principio dell'automatizzazione può essere espresso in diverse forme, come d'altra parte anche gli altri principi che vi sto enunciando. Da una parte è un inviso a cercare di ridurre il più possibile le attività manuali, limitandole soltanto alle fasi più creative dei progetti e dei processi. In questo caso il vantaggio che si porta a casa è un uso ottimale delle risorse pregiate come il cervello umano, ma anche una cresciuta trasparenza e velocità durante l'esecuzione. Il fatto che il lavoro diventa sempre più prevedibile e sempre meno fatto in condizioni di emergenza. Alla base di una buona automatizzazione c'è la consapevolezza e la documentazione di ciò che si fa e di come lo si fa e qui torniamo al principio di inventario. Dall'altra parte, dato che non si può gestire ciò che non si può misurare, questo è uno dei principi secondo me base della sicurezza, cioè non si può fare della buona sicurezza se non si è in grado di tirare fuori dei numeri, anche in qualche modo semi qualitativi, però comunque dei numeri bisogna cercare di tirarli fuori per poter gestire bene la sicurezza. Un altro aspetto importante è l'uso estensivo di misuratori che siano obiettivi il più possibile per conoscere lo stato di avanzamento dei processi e l'efficienza e l'efficacia con cui essi utilizzano le risorse raggiungono i propri obiettivi, soprattutto nel momento in cui la pubblica amministrazione si trova a dover lavorare quotidianamente con risorse sempre più stringate, è importante avere coscienza delle risorse che si utilizzano nei processi e questo vuol dire essere in grado di misurare tutto quello che si può. Fare della buona automatizzazione inoltre comporta la gestione del divario digitale nell'uso delle tecnologie, la formazione degli utenti, l'uso delle best practice sull'usabilità e l'accessibilità dell'interfaccia uomo-macchina e l'utilizzo di standard architetturali nel disegno dell'interfaccia macchina-macchina, quindi ce n'è un po' per tutti se vogliamo. Il principio della temporalità invece è un principio che invita a lavorare per priorità e a garantire risposte tempestive ai problemi di sicurezza, ad esempio installando le patch prima possibile, oltre che a impostare un sistema automatico di allarmi che intervenga tutte le volte e si verifica una condizione di potenziale violazione di sicurezza. Faccio un attimo una piccola digressione sul discorso delle patch. Le patch sono un problema annoso, perché in realtà ci sono due diversi punti di vista, parliamo prima di tutto di quella che dovrebbe essere la best practice, la best practice dice che in realtà le patch non dovrebbero mai essere installate immediatamente negli ambienti di produzione, ma dovrebbero sempre passare attraverso un ambiente di test in cui la patch in questione viene prima, quando arriva, testata, perché potrebbe succedere che magari la patch abbia dei problemi, come è successo per esempio di recente alle patch che sono state rilasciate per Windows 10 da Microsoft e in quel caso non ci si può trovare in produzione avendo la produzione bloccata perché la patch ha fatto cose che non doveva fare, ma anche semplicemente perché negli ambienti di produzione ci sono magari degli applicativi delle cose che a priori non sappiamo ma potrebbero comportarsi nel momento in cui viene installata una nuova patch, quindi le patch non dovrebbero essere mai installate automaticamente nei sistemi di produzione, ma dovrebbero arrivare tutti in un server centrale da qui distribuite dall'amministratore di sistema dopo essersi assicurato del fatto che le patch non causano problemi legato, strettamente legato a questo modello ovviamente ci sta il discorso di backup perché uno dovrebbe avere il sistema di produzione, fare il backup, provare la patch, se la patch dà problemi automaticamente si rifà il restore e uno si ritrova il sistema pulito è chiaro che questo discorso qui che sto facendo, che è una best practice, faremo un po' cazzotti col fatto che invece nel momento in cui ho per esempio un malware in corso dove mi arriva la patch che mi risolve la vulnerabilità che il malware sta sfruttando devo cercare di installare le patch prima possibile e sicuramente le patch di sicurezza hanno dei cammini in qualche modo privilegiati rispetto alle altre, sono patch urgenti, verosimilmente sono anche patch che sono state più testate a monte dal fornitore e quindi dovrebbero avere una stata privilegiata, come al solito stavolta si può magari cercare di mandarli direttamente in produzione se serve, stiamo sempre attenti dal fatto di aver fatto dei backup aggiornati perché se comunque la patch dà problemi almeno possiamo fare il restore della situazione precedente. Dopodiché, tornando alla slide, l'organizzazione deve essere in grado di correlare eventi che avvengono in momenti e in punti diversi della rete. Una delle conseguenze di questo principio è anche la capacità di pianificare le azioni, i processi e i progetti in generale e nel comprendere quali attività possono essere svolte in serie perché ognuna di esse sfrutta parte dell'output di quelli che la precedono oppure in parallelo portando così alla velocizzazione complessiva. Da un punto di vista pratico, gestire la tempistica vuol dire anche avere la percezione corretta di dove ci sono potenziali colli di bottiglia che rallentano e bloccano l'esecuzione dei processi portando a ritardi, a condizioni di errore e a lavoro in emergenza. Il principio della diversità, questo è un principio un po' particolare rispetto agli altri ma secondo me molto valido, anche in questo caso siamo in presenza di un principio che ha molteplici sfaccettature. Nella fase di elicitazione, il termine standard in cui si intende il fatto che vengono raccolte e valutati i requisiti di sicurezza, occorre prendere in considerazione tutti i requisiti espressi da tutti gli stakeholder. Stakeholder è un termine generale del project management che indica tutte le persone che a vario titolo hanno interesse sul progetto, può essere per esempio l'utente finale, può essere il fornitore che deve prendere i soldi, può essere il cliente che ha chiesto il progetto, può essere per esempio lo sviluppatore che vuole avanzare di carriera perché se il progetto va a buon fine e così via. Però può succedere in generale che essendoci test diverse, essendoci stakeholder diversi, i requisiti espressi possono andare in conflitto tra di loro e quindi una volta che questi requisiti sono rassati raccolti bisogna in generale porsi il problema di risolvere gli eventuali conflitti. Inoltre sia in fase di progettazione che facendo l'assessment di un sistema è consigliabile cercare sempre di assumere il punto di vista di un potenziale attaccante e cercare di pensare in modo diverso e creativo e cioè come sia possibile bucare le proprie protezioni. Anche questo è un discorso importante da fare, di solito la differenza fondamentale tra un architetto enterprise e un architetto di sicurezza è che mentre l'architetto enterprise deve pensare a come un sistema funziona e a farlo funzionare, l'architetto di sicurezza invece deve pensare a come non farlo funzionare, quindi ha un approccio in qualche modo opposto rispetto al precedente. Nella scelta di soluzioni di sicurezza può essere vincente utilizzare prodotti di nicchia, pur quelle dovute attenzioni, prodotti di nicchia perché magari sono meno oggetto di bersaglio da parte di persone malintenzionate. Inoltre se l'infrastruttura di sicurezza prevede più livelli è consigliato utilizzare soluzioni eterogenee tra un livello e l'altro, per esempio firewall di marca diversa, in modo che l'attaccante non possa sfruttare un'unica vulnerabilità e comunque portarlo nella condizione di raggiungere l'obiettivo con più difficoltà e lasciando più tracce. Questo principio infine ha anche una valenza culturale di rispetto e di promozione delle diversità, avere un team in cui i partecipanti hanno pensieri, personalità e competenze diverse aiuta e ricordiamoci che un approccio corretto alla sicurezza richiede sempre l'apertura alle critiche, se non ci sono le critiche è difficile si riesca a fare, costruttivamente è difficile si riesca a fare della buona sicurezza. Il principio della separazione, uno dei paradigmi chiave della sicurezza è quello della separation of duties, che consiste nel far sì che per completare un'attività sia richiesta più di una persona, in modo da prevenire la possibilità di frode o errore, tale ad esempio nella Costituzione italiana la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, oppure il fatto che per far partire un missile nucleare due persone diverse devono far girare due chiavi separate in un cruscotto. Inoltre questo principio si manifesta nel creare ambienti fisici o virtuali che siano separati il più possibile gli uni dagli altri, in particolare se hanno esigenze di sicurezza diverse. Dal punto di vista logico è consigliato segmentare la rete in virtual LAN, separate da firewall, o anche creare profili di autorizzazione diverse per le varie operazioni di gestione. Oppure ancora, quando si deve trasmettere una password, per esempio ad un utente remoto, dividerla in due parti e trasmetterle su due canali separati. Dal punto di vista fisico è consigliato confinare gli apparati sensibili in ambiti appositi opportunamente protetti da accessi abusivi. Vediamo adesso, diciamo i 10 minuti e i 10 principi, così come vi ho espresso, sono quelli che vi ho appena detto, vediamo adesso qual è la relazione tra principi e misure minime. Quindi stiamo guardando nello schema iniziale che abbiamo visto a tre livelli, in cui c'è il principio in alto, le misure di sicurezza in mezzo e le regole tecniche in fondo, stiamo vagliando il rapporto esiste tra i primi due livelli, principi e misure minime. Per farvi un esempio, prendiamo per esempio ABSC 2.1.1 che dice, stilare un elenco di software autorizzate e relative versioni necessarie per ciascun tipo di sistema, compresi server, wallstation, laptop di vari tipi e per diversi usi, non consentire l'installazione di software non compeso nell'elenco. Qui vi ho indicato in qualche modo le parole chiave all'interno di questa frase che ci riportano direttamente ai principi appena enunciati, cioè stilare un elenco di software vuol dire fare un inventario di fatto, quindi principio di inventario. Versioni necessarie per ciascun tipo di sistema vuol dire che deve essere minimizzato l'insieme di tutti quei software che viene installato nel sistema, quindi principio del minimo. Non bisogna consentire l'installazione di software non compreso nell'elenco, quindi la parola consentire vuol dire che in qualche modo c'è un controllo degli accessi e quindi dei privilegi, quindi principio di attribuzione. Non compreso nell'elenco vuol dire che se da una parte esiste un elenco di software autorizzati, dall'altra esiste tutto il resto, quindi c'è in qualche modo una separazione. Quindi il lavoro che noi sostanzialmente facciamo, stiamo facendo e faremo, è non solo quello di aver enunciato questi 10 principi come linee guida, ma anche di averli in qualche modo associati alle misure minime che sono già state enunciate in passato. Quindi noi usciremo con un documento di testo in cui sostanzialmente racconteremo questi principi che vi ho appena detto, ma corredati di tabelle in cui misura per misura potremo vedere anche quali sono i principi da cui questa misura in particolare deriva. Io ho sostanzialmente finito, mi rendo conto di aver messo sul fuoco una bella dose di argomenti, ma d'altra parte la sicurezza è fatta così, quindi purtroppo ci dobbiamo fare una ragione in qualche modo e cercare di capire i concetti il più possibile. Lo scopo dei principi è quello di essere 10, C, quindi sono un numero tutto sommato abbastanza esiguo e speriamo abbastanza facile da memorizzare e soprattutto da comprendere, quindi dovrebbero aiutare ulteriormente nell'applicazione delle misure di sicurezza alla realtà quotidiana. Benissimo, grazie Alessandro, veramente citando un utente della chat, argomento trattato meravigliosamente, perché veramente nonostante il tema molto tecnico sei riuscito a darci una panoramica molto chiara, appunto anche un po' filosofeggiante, quindi ti ringraziamo molto perché insomma ci hai sicuramente chiarito e vedo che i partecipanti sono d'accordo con me. Allora, è arrivato qualche commento e qualche domanda, te ne pongo uno di Francesco e Solito, che chiede è obbligatorio avere un team di specialisti della sicurezza con un responsabile, la formazione continua è obbligatoria, senza obblighi non sembra si apprezzi il rischio. Allora, rispondo alla prima domanda, intanto avere un team di specialisti della sicurezza non responsabili è niente obbligatorio a questo mondo, però sono tutte contromisure che si possono mettere in atto per ridurre il rischio, quindi se un'organizzazione ha in generale un responsabile della sicurezza, che già è tutto grasso che cola, e se poi oltre al responsabile c'è pure un team di specialisti intorno, tanto di guadagnato, perché comunque sia difficile che una persona da sola, per quanto dotata di privilegi e attributi organizzativi a tutti i livelli, riesca a seguire un'organizzazione complessa come può essere una pubblica amministrazione, quindi avere un team di specialisti intorno vuol dire anche avere delle competenze di dettaglio sui vari argomenti e quindi essere maggiormente in grado di far fronte a eventuali problemi. Poi, come dicevamo prima, nel caso della gestione dei progetti, project management, avere degli specialisti vuol dire che io posso allocare le persone al progetto e seguire, perlomeno buttarci un occhio ogni tanto nelle varie fasi, dall'analisi alla progettazione, al test, in modo da essere sicuro, perlomeno verificare che non ci siano situazioni potenzialmente pericolose, il che ovviamente va a tutto vantaggio non solo della sicurezza, ma pure del progetto in sé. Poi l'altra domanda, se la formazione continua obbligatoria? Direi di sì, perché purtroppo non siamo pezzi di pietra, noi viviamo, vivendo, cambiamo e quindi essendo il cambiamento parte inerente della nostra vita, il cambiamento di solito smuove le acque e quindi se non siamo in grado di far fronte ai problemi via via, che si verificano anche nuovi problemi, difficilmente riusciremo a fare buona sicurezza. questo almeno è quello che penso, non credo di essere isolato in questo modo di pensare. Sì, certo, il mondo evolve e allo stesso tempo anche noi ci dobbiamo evolvere, il problema che molti dicono è il problema delle assenzioni, delle competenze, insomma che speriamo la pubblica amministrazione si evolva anche in questo senso. Un'altra domanda che ti volevo porre è c'è un'autorità di controllo della sicurezza cibernetica nell'APA? Deve essere nominato un responsabile della sicurezza informatica? Allora, al momento il problema è un po' dolente, nel senso che da una parte abbiamo per esempio la NIS e la direttiva europea, il decreto legislativo di ricepimento in Italia che individua delle figure ben precise, per cui per esempio il punto di contatto unico per la NIS e il Dipartimento della Sicurezza, poi ci sono le varie autorità competenti per i vari argomenti e così via. Dall'altra, per quanto riguarda le singole pubbliche amministrazioni, non ci sono, a meno che io sappia al momento, indicazioni esplicite dell'esistenza del responsabile della sicurezza all'interno dell'organizzazione, ma non c'è nemmeno, se non sbaglio, non è nemmeno prevista la figura del responsabile IT in generale, c'è solo nel CAD la figura sostanzialmente del responsabile della transizione al digitale, che se vogliamo è una figura un po' a soquigliatutto, che si può trovare sul gobbo a risolvere tutte queste problematiche, quando si parla di transizione al digitale, in realtà trasformazione al digitale, in realtà andiamo a impattare appunto sull'IT, sulla sicurezza e quant'altro, quindi direi che forse se dovessimo fare un riferimento a quel famoso livello di maturità che vi citavo prima, ancora la pubblica amministrazione è nella fase eroica, si sta cercando piano piano di farla diventare una cosa sistematica, perlomeno Agile ce la mette tutta, però sta anche, se vogliamo, alle singole pubbliche amministrazioni quella di capire il problema e cercare di dotarsi da dove possibile delle figure e delle competenze necessarie, quindi dicevo fase eroica, perché in Italia, ma penso questo anche in qualsiasi pubblica amministrazione, insieme di pubblica amministrazione internazionali, si verifica sempre il caso della pubblica amministrazione, magari del dirigente particolarmente illuminato, che fa in modo da, per esempio facendo riferimento alle misure di sicurezza, a non avere solo il minimo, ma avere qualcosa in più e poi ci può essere magari la pubblica amministrazione più piccola, con meno risorse, che magari fa fatica anche semplicemente a portare avanti l'operatività a fine anno, per cui invece è richiesto in qualche modo un aiuto da parte magari anche di Agile e quant'altro, ma Agile ha anche delle figure di riferimento specifiche che possono affiancare le varie regioni nel cercare di portare avanti con successo l'agenda digitale, per dire. Va bene Alessandro, ti ringrazio, chiedo a Corrado Giustozzi di attivare anche lui la sua webcam e il suo microfono, perché non so se vuole aggiungere anche lui qualcosa a queste domande, quindi Corrado se puoi... Ecco, mi arrivo, allora, mi vedete? Sì, ci sta attivando la... ecco, ti vediamo e ti sentiamo, perfetto, non so se vuole aggiungere anche tu, Corrado, qualcosa a queste domande che ci hanno posto. Buongiorno a tutti, sì, in particolare su quest'ultimo, voglio dire che nelle pubbliche amministrazioni il responsabile IT è obbligatorio, nel senso che comunque era obbligatorio da prima, è obbligatorio anche il responsabile della transizione, se non c'è il dirigente è responsabile degli IT, ai sensi proprio dell'articolo 9 del Cato, quindi ci deve assolutamente essere. Non solo, le misure minime di sicurezza alle quali Alessandro faceva riferimento, che sono state emanate a maggio dello scorso anno, sono cogenti, sono obbligatorie per legge per le pubbliche amministrazioni, quindi non è un consiglio, è un obbligo normativo cogente, che andava impiuto nel 31 dicembre scorso, poi non ci sono sanzioni per tanti motivi, uno è che queste norme non sono norme a carattere, come dire, vessatorio, sanzionatorio, sono un supporto alle amministrazioni, quindi non è previsto che ci siano sanzioni per l'inatempienza, tranne un fatto che non è trascurabile, l'adozione e il mantenimento delle misure minime sono esplicitamente messe dalla norma nelle responsabilità del dirigente responsabile dell'IT o del dirigente responsabile della transizione digitale, quindi se una pubblica amministrazione non adotta e non ottempera alla norma sulle misure minime di sicurezza, in realtà questa cosa è una omissione di atti di ufficio da parte di un dirigente, che non è esattamente una cosa senza conseguenze, per cui c'è un cogente importante su questi temi e è assegnata una responsabilità, ha una figura ben precisa che è prevista dal CAD. Poi non esiste una autorità di controllo, ma bisogna capire che cosa significa controllo, non c'è nessuno che viene a verificare se la sicurezza informatica è stata fatta, per dire, però un'autorità che ha responsabilità sulla sicurezza della pubblica amministrazione esiste e è l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha avuto questo mandato dal quadro strategico nazionale, da una direttiva del Presidente del Consiglio del 1 agosto 2015, da tutta una serie di normative che incaricano l'Agit di emanare norme, regolamenti tecnici, di attivare iniziative per innalzare il livello di sicurezza pubblica amministrazione e le misure minime sono state una iniziativa compiuta in realtà, i documenti più strategici come quello che stava illustrando Alessandro sono i passi successivi, l'ha inserito la cyber security all'interno del piano triannale, declinandola su tutti i trailer del piano triannale, è stata un'altra iniziativa, quindi un organo responsabile c'è l'Agenzia per l'Italia digitale e poi, ma sto anticipando semplicemente la mia presentazione che farò fra pochi secondi, c'è una struttura operativa che ha il compito proprio di supportare le pubbliche amministrazioni nell'adozione, nella disposta, meglio così, agli incidenti di sicurezza, che è il certo della pubblica amministrazione che però fa tantissima attività strategica e proattiva, non è soltanto i pompieri da chiamare quando è scoppiato l'incendio, la sua attività è soprattutto cercare di far sì che gli incendi non scoppino proprio. Va benissimo, grazie Corrado per questo chiarimento, allora io darei a te la parola per la tua presentazione e poi il resto delle domande le vediamo alla fine del tuo intervento, grazie. Perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti, Alessandro è stato assolutamente esaustivo nel descrivere il contesto nel quale appunto ci muoviamo da un punto di vista strategico, da un punto di vista di creazione della cultura, della organizzazione, della sensibilità che le amministrazioni dovrebbero avere nei confronti di questi problemi. Io invece volevo parlare più nello specifico appunto di una struttura che esiste da diversi anni, che esiste oramai praticamente dal 2013 e a regime del 2015, ma che poche amministrazioni forse conoscono, non sanno esattamente qual è il suo scopo e quali sono le sue attività e quindi era l'occasione oggi utile per raccontare queste cose, parliamo del CERT e della pubblica amministrazione, ma vorrei iniziare diciamo in un modo un pochino più generale spiegando che cosa si intende proprio con il termine CERT e che cos'è un CERT. Allora, non è un concetto nuovo, in realtà questo termine e il concetto sotteso da questo termine hanno esattamente 30 anni di vita, perché il primo CERT nasce per caso, come succede molte volte, nasce in situazioni di emergenza il 2 novembre del 1988 quando ci fu il primo grande attacco sistematico a Internet, alla rete. Nell'88 peraltro Internet non era ancora aperta al pubblico e alle aziende, era esclusivamente una rete universitaria, anche se molto estesa, e una rete che era un'oasi di tranquillità, perché appunto essendo amministrata da scienziati per scienziati praticamente non succedeva nulla di strano, ma un certo giorno uno studente, un dottorando della Cornell University, che stava sperimentando sulla possibile creazione di virus, di worm, quindi di software che si autopropagasse, stava sperimentando sulle vulnerabilità dei sistemi operativi Unix, molto diffusi all'epoca, fece scappare, o meglio, fece un esperimento che gli sfuggì di mano. Costruì un worm, quindi un software che era in grado di propagarsi da un computer all'altro, sfruttando la rete, sfruttando delle vulnerabilità dei sistemi, col quale lui voleva semplicemente verificare in quanto tempo si sarebbe diffuso, ma non aveva intenzione di creare danni, però per un difetto di programmazione, questo oggetto iniziò a bloccare il funzionamento dei sistemi su quale atterrava, perché avrebbe dovuto riconoscere, per esempio, se un sistema era già stato colpito, sul sistema si trovava già una copia di se stesso e quindi evitarlo, così non faceva, per cui il risultato è che si moltiplicavano centinaia, migliaia di copie di questo programma che saturavano tutte le risorse del sistema, della rete, bloccando di fatto la rete. Questa cosa è successa di notte e fu la prima volta che si verificò un attacco così globale a una rete nella quale non era mai successo niente. Non si sapeva cosa fare, era bloccata la posta, erano bloccate le comunicazioni, quindi i pochi tecnici che sorvegliavano ai centri di calcolo non riuscivano a mettersi in comunicazione fra di loro, ma non esisteva neanche un'infrastruttura dei responsabili della sicurezza, perché non erano mai stati gradi, perché non servivano e quindi ognuno colpito da questa minaccia non sapeva chi chiamare, non sapeva con chi parlare. E quindi i tecnici della Carnegie Mellon University, quello che si trovava di presidio quella notte, iniziarono loro a fare un po' da punto di coordinamento della risposta all'incidente e quindi si improvvisarono come una sorta di pompieri, per cercare di coordinare una risposta, per cui usando il telefono, usando conoscenze personali, cercano di coordinare un po' una risposta sistematica a questa emergenza che stava bloccando l'aria. Passata questa notte di fuoco, come bisogna fare tutte le volte che qualcosa va male, si cercò di imparare dall'esperienza fatta quella notte. Per cui si capì che la rete era vulnerabile, perché di fatto una minaccia globale pervasiva era stata attuata e aveva creato enormi danni e quindi era necessario stabilire delle strutture, delle organizzazioni, delle procedure per poter evitare incidenti del genere nel futuro e rispondere a eventuali incidenti o altri tipi di minacce. Quel gruppo che quella notte alla Carnegie Mellon University iniziò a coordinare, ma veramente in modo spontaneo e militante, in prima linea, la risposta si era autodenominato Computer Emergency Response Team, quindi Team per la risposta all'emergenza informatica. Questo nome fu scelto ufficialmente come nome della struttura che venne creata proprio per una richiesta del Presidente degli Stati Uniti, quindi una roba molto formale che venne creata all'interno della Carnegie Mellon University, in particolare il Software Engineering Institute della Carnegie Mellon. Quindi si creò una struttura dedicata a studiare i possibili rischi globali, i possibili incidenti, le possibili minacce, i possibili impatti e a studiare le modalità per prevenirle e per rispondere adeguatamente in caso si verificassero altri incidenti analoghi o diversi. Questo gruppo quindi iniziò a studiare il problema e a sistematizzare l'atteggiamento e le modalità per affrontarlo, diventando di fatto il riferimento mondiale. Ancora oggi il Software Engineering Institute della Carnegie Mellon ospita sostanzialmente la mamma di tutti i CERT, il cosiddetto CERT CC, cioè il CERT Coordination Center, il centro di coordinamento di tutti i CERT mondiali. Perché i CERT mondiali? Perché nel frattempo appunto iniziarono a nascere strutture distribuite sul territorio che si chiamarono CERT, proprio per poter localmente creare gruppi di pronto intervento per la prevenzione e la risposta. Iniziarono a farlo alcune università o consorzi di università, poi cominciarono negli anni a farlo magari grosse aziende, multinazionali, cominciarono a farlo i governi, per cui da un approccio dal basso, da un approccio di pura risposta a un'emergenza, si iniziò a creare una rete di strutture formali che iniziano a chiamarsi i CERT. Oggi i CERT dopo 30 anni sono diffusi, in tutto il mondo, ci sono varie tipologie di CERT, ci sono CERT privati, ci sono CERT pubblici, ci sono CERT governativi, ci sono CERT di settore, ognuno con una sua specificità. Nel 2013 l'Unione Europea, ci ritorno a fare un secondo, nel 2013 l'Unione Europea stabilì proprio che ogni Stato membro dell'Unione avrebbe dovuto creare almeno un CERT nazionale, un CERT governativo che coordinasse la prevenzione e la risposta agli incidenti per ciascuno Stato membro e creare un CERT europeo, che si chiama CERT EU, con la funzione di coordinamento dei CERT governativi degli Stati membri europei. In seguito a questa iniziativa, anche l'Italia ha risposto creando una propria struttura di CERT, in particolare affidando la protezione del spazio cibernetico a due strutture, ma lo vediamo fra un secondo. Volevo ora semplicemente chiarire un pochino la terminologia usata, perché nel frattempo ha iniziato a diffondersi un altro termine, il CERT o CERT, ma anche a differenziare le modalità di interpretazione dei termini esistenti. La Carnegie Mellon sostiene da qualche tempo che il termine CERT non è più un acronimo, ma è un nome che vale di per sé, quindi non dà più significato alle singole lettere, anche perché effettivamente il mestiere dei CERT è cambiato molto in questi anni. Non sono più i pompieri che corrono a valle di un incendio, ma sono soprattutto strutture di prevenzione, strutture di strategia. E quindi molti avevano iniziato a considerare la R del termine CERT non più come response, ma come R di readiness, di preparazione, sottolineando non tanto l'aspetto di risposta, ma l'aspetto invece di prevenzione. La Carnegie Mellon in questi anni ha registrato il termine CERT, che quindi non può essere adoperato da chiunque se non dietro il consenso della Carnegie Mellon e per questi motivi alcune organizzazioni preferiscono usare un termine che non soffre di questa limitazione, che è il termine CERT o CISIRT. Lo fa anche l'Europa, la Commissione europea, proprio nella direttiva NIS e in altri documenti, oramai non menziona più il termine CERT, ma menziona il termine CERT, che originariamente significava Computer Security Incident Response Team o Cyber Security Incident Response Team, quindi ancora una volta con l'accento sulla risposta, ma ancora una volta in realtà l'accento si sta spostando sempre più sulla prevenzione. Questo giusto per fare chiarezza su termini che magari spesso non sono perfettamente compresi. Che cosa fa alla fine un CERT o un OXIRT? Per potersi chiamare CERT o OXIRT deve erogare esattamente i servizi che vediamo su questa tabella. Cioè questo è il catalogo standard ufficiale di servizi erogabili, sono tutti i possibili servizi erogabili da un CERT o da un OXIRT. Lo dicono il CERT Coordination Center della Carnegie Mellon e ENISA, l'agenzia europea per la Cyber Security, che è in Europa l'ente che supervede alla sicurezza informatica dell'Unione degli Stati membri, detta le regole tecniche, detta le norme e gli indirizzi. In accordo ENISA e CERT Coordination Center cooperano da molti anni sul tema dei CERT hanno definito questo come catalogo standard di servizi. Come vedete sono divisi in tre grandi famiglie, uno dei servizi reattivi, che erano proprio quelli su cui è nato il CERT 30 anni fa, quindi la risposta, poi una famiglia di servizi proattivi, quindi di servizi di natura strategica, di natura preventiva e una famiglia di servizi di gestione della qualità. Non tutti questi servizi sono obbligatori, affinché una struttura possa legittimamente definirsi CERT deve fornire almeno quelli che in questa CERT sono sottolineati, quindi i servizi di alert e warning per quanto riguarda servizi reattivi e i servizi di incident presenta entering, quindi gestione degli incidenti e i servizi di announcement, quindi di annunci per quanto riguarda i servizi proattivi. Questo è il minimo indispensabile. Tutti gli altri sono ovviamente opzionali, sono nice to have, esistono strutture che forniscono una larga parte di questo portafoglio, tra cui appunto il CERT della pubblica amministrazione. Chi sono i clienti di un CERT? I clienti di un CERT sono coloro cui il CERT dà servizio, vengono chiamate con termini specifici, si chiamano constituency, perché non sono clienti in senso ordinario, perché spesso la constituency è composta da organizzazioni che fanno parte della stessa struttura a cui appartiene il CERT, questo succede per esempio quando si tratta di CERT interni a un'azienda, a un'organizzazione, il CERT di una università o di un consorzio universitario nasce per dare servizi a quel consorzio e quindi di quel consorzio è la sua constituency. Quindi è la comunità di riferimento, però un CERT dialoga anche con una comunità o più comunità più allargate, perché può dialogare con altri CERT, può dialogare con altre entità che partecipano in qualche modo, che ricevono servizi in qualche modo pur non appartenendo strettamente alla comunità di riferimento o alle organizzazioni associate alla comunità di riferimento. In questo caso si parla più correttamente di community, queste altre organizzazioni o gruppi di organizzazioni con cui un CERT può intrattenere rapporti di tipo scambio informativo, di tipo scambio di attività, di supporto reciproco o regolati da accordi bilaterali o anche semplicemente intrapresi in best effort. Eventualmente anche il pubblico generale, perché quasi sempre succede che un CERT, a meno che non sia proprio un CERT privato di una banca, ma se un CERT che opera in ambito pubblico o in ambito comunque industriale ma ampio, molto spesso fornisce come sottoprodotto della sua attività una serie di servizi ovviamente informativi anche al pubblico generale, quindi ai cittadini o comunque a imprese o amministrazioni che possono ricevere di solito gratuitamente un sotto insieme di informazioni non ultra riservate, ultra sensibili, ma per il bene in qualche modo della comunità. Allora, con questa premessa cos'è un CERT come opera, vediamo cosa fa il CERT della pubblica amministrazione. Innanzitutto perché c'è stato bisogno di un CERT e perché c'è stato bisogno di coordinare attività di sicurezza nei confronti della pubblica amministrazione e quindi perché è stato mandato all'Agenzia per l'Italia Digitale, che esisteva da molto tempo anche se con incarnazioni o nomi differenti, risale all'epoca di AIPA dell'autorità degli anni 90, l'attività in continuità che ha portato all'Agenzia per l'Italia Digitale, ma negli ultimi anni ad Agid sono stati dati specificamente dei compiti strategici importanti per quanto riguarda la sicurezza della pubblica amministrazione. I razionali sono il fatto che il livello della minaccia in questi anni è cresciuto e sta continuando a crescere moltissimo e la pubblica amministrazione è diventata un bersaglio importante per i cattivi. I cattivi non sono più gli hacker col cappuccio che giocano dal garage o dal salotto di casa, ma i cattivi sono la criminalità organizzata, sono anche, lo sappiamo, alcuni stati, alcuni servizi di alcuni stati che fanno attività di spionaggio, sabotaggio eccetera. Sicuramente la pubblica amministrazione italiana non deve temere questo tipo di minaccia, ma quello della criminalità organizzata sicuramente sì e abbiamo visto negli ultimi anni attacchi di varia natura, non solo ideologici, ma anche proprio criminali, quindi con richieste di riscatto, finalizzate per esempio a bloccare sistemi e chiedere riscatto per far ripartire i sistemi o trafugare dati. La pubblica amministrazione vive un pochino la sindrome, quella del famoso adagio dello sparare sulla croce rossa. Perché è facile sparare sulla croce rossa? Perché quelli della croce rossa girano disarmati, hanno i bersagli, cioè la croce dipinta sul petto e sulle fiancate dei veicoli e soprattutto non si aspettano che qualcuno gli spari, pensano di non avere nemici. Così la pubblica amministrazione pensa di non avere nemici, chi può avercela con la pubblica amministrazione? Ma la pubblica amministrazione è l'infrastruttura critica più importante del nostro paese, tratta i dati dei cittadini, i dati di tutti noi, che sono il bene principale di un paese e quindi mettere a repentaglio, minacciare i dati, le funzioni, i servizi a pubblica amministrazione mette a repentaglio il paese. Al di là di episodi sporadici, esiste oramai una casistica importante di ospedali che sono stati oggetti di attacchi con richieste di riscatto, di fughe di dati, di credenziali, quindi di identità digitali, fughe massive anche da pubblica amministrazione italiana. Quindi è un patrimonio che deve essere protetto, la pubblica amministrazione non se ne accorta per molti anni perché effettivamente è stata fuori dall'occhio del ciclone per molti anni, ma adesso non si può più ignorare questa minaccia. Questo survey che vedete in questa diapositiva fotografa la situazione al 2014, ma sostanzialmente la riteniamo valida ancora oggi proprio, andando a verificare quella che era la consapevolezza della pubblica amministrazione nei confronti della minaccia cibernetica e la capacità di risposta dell'amministrazione. Non sarebbe fatto dall'Agenzia per l'Italia digitale insieme a Sapienza Università di Roma, si può trovare ancora sia sul sito di Agid sia sul sito di Sapienza, pubblicato dal CIS Sapienza come report annuale del 2014. Sostanzialmente le conclusioni da questo report sono che l'amministrazione è poco consapevole, non ha strutture organizzative in grado di gestire eventi e rispondere agli attacchi, anche se normativamente, e qui mi riaggancio un po' alla risposta precedente, erano previste da anni, dal tempo dell'SPC avrebbero dovuto creare al proprio interno quelle che una volta si chiamavano le ULS, unità locali di sicurezza, gruppi di tecnici che avrebbe dovuto supervedere la sicurezza degli impianti tecnici, delle reti eccetera, che poi di fatto è una revisione che è stata largamente inattuata, ma è comunque risale a diversi anni fa. Non ci sono strutture organizzative, la superficie di attacco è assolutamente eccessiva, non esiste un riferimento, una linea di base comune che stabilisca che cosa bisogna fare e soprattutto la sicurezza nelle amministrazioni è quasi esclusivamente affidata alle tecnologie, questo per tanti motivi, perché ovviamente è più facile affidarsi a un fornitore che arriva con un portafoglio di soluzioni rassicuranti, compra questo oggetto, lo metti sulla rete e ti protegge da questo genere di cose, però comprare l'oggetto tecnologico senza razionalizzarne l'uso, senza farne un uso consapevole e senza avere a valle le procedure e l'organizzazione di solito è inutile. L'altro motivo è che come sappiamo tutti è molto più facile comprare oggetti per la pubblica amministrazione che non competenza, sul MEPA si comprano oggetti e non si possono comprare consulenza, competenza, esperienza e quindi la parte organizzativa, processiva di governance purtroppo è sempre la più trascurata, anche per difficoltà oggettive dell'amministrazione di approvvigionarsi. Vi faccio vedere brevissimamente due grafici tratti da questo report, le amministrazioni sono state categorizzate in queste cinque grandi famiglie che sono regioni, amministrazioni centrali, comuni, asle, aziende ospedaliere, ciascuna è stata misurata su tre direttive che sono quelle della consapevolezza, la barra rossa, quella dell'organizzazione, la barra verde e quella della difesa, la barra azzurra e come vedete al grafico in alto a sinistra, nell'area di sufficienza praticamente non c'è nessuno, viene lambita soltanto delle amministrazioni più grandi e soltanto per la parte azzurra, le amministrazioni più piccole, come era facile attendersi purtroppo, sono molto in basso ma soprattutto per la parte verde non hanno proprio idea di come dovrebbero comportarsi, il grafico in basso a destra ci fa vedere una vista diversa degli stessi dati in un piano in cui nell'asse orizzontale c'è la difesa, nell'asse verticale l'organizzazione e i pallini sono le singole amministrazioni divise per colori fra appunto PAC, comuni e via dicendo vedete che nell'area di sufficienza praticamente ci sono soltanto alcune PAC, le più grandi fra le amministrazioni centrali, i piccoli e qualche regione, i comuni, le ASL, i piccoli sono quasi tutti in basso a sinistra, ovviamente. Per cercare di sanare questa situazione, questo è un dato di fatto, di cui si aveva consapevolezza però gli eventi sono precipitati in questi anni, il livello della minaccia è cresciuto enormemente, la criminalità organizzata ha iniziato a capire che la pubblica amministrazione è il soggetto perfetto perché è vulnerabile, ha tanto da perdere e quindi sono sempre di più gli attacchi che bersagliano la pubblica amministrazione. Per rispondere a questo stato di fatto, i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno dato ad Agid degli incarichi importanti all'interno delle funzioni di sicurezza della pubblica amministrazione. A partire, come dicevo prima, dal quadro strategico nazionale del 2013, c'è una direttiva del Presidente del Consiglio del 1 agosto 2015, direttiva del Presidente Renzi, ci sono i decreti gentiloni del 2017 e via dice. Agida è il compito quindi di emanare regole tecniche in linee guida e lo stiamo facendo come avete visto anche dalla reazione precedente di Alessandro, ha il compito di attuare azioni a protezione del patrimonio informativo della pubblica amministrazione e sono le azioni che sono declinate all'interno del piano triennale. Per la prima volta, da quando esistono i piani triennali di Agid o delle versioni precedenti delle agenzie, si nomina esplicitamente la cyber security e si declina per ogni layer, quello delle infrastrutture materiali, immateriali e degli ecosistemi, che cosa significa cyber security per quel layer, cosa sono le cose da fare. Vedo un'osservazione di un documento strategico datato a dicembre 2013, non era assicurante, è l'Europa, l'Europa ha dato la strategia nel 2013, non era assicurante, sono d'accordo, perché tutta l'Europa si è accorta un po' tardi del problema, nel 2013 l'Europa si è dotata di una strategia europea e chiedendo agli stati membri di fare la stessa cosa e l'Italia prontamente l'opera. Sicurezza dei servizi reali della pubblica amministrazione, formazione, che stiamo d'accordo, è la cosa più importante da fare, ma è anche quella che viene fatta di meno, perché servono tante risorse, tanto tempo, tanto di tutto, è difficile farla. Webinar come questo di oggi sono estremamente importanti per poter disseminare proprio questo tipo di approccio e di cultura. E poi uno dei compiti è stato quello di creare e gestire il CERT della pubblica amministrazione, proprio perché nel 2013 l'Europa ha mandato a tutti gli stati membri di dotarsi di CERT governativi coordinati a livello europeo. Questa era dunque la visione prima del 2017, quindi del 2013, perché dico prima del 2017? Perché nel 2017 il piano nazionale per la protezione del spazio-ciplanetico è stato aggiornato e quindi ha cambiato un pochino la prospettiva. Il piano del 2013, conseguente alla strategia del 2013, prevedeva un modello di questo genere. Su una piattaforma, quella azzurrina in prospettiva, che era la pubblica amministrazione, ci sarebbe stato il CERT della pubblica amministrazione che faceva funzione di monitoraggio, allertamento, supporto e coordinamento per la risposta agli incidenti, aiutato da altre strutture analoghe. Perché? Perché lui avrebbe avuto come costituensi soltanto le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni, le città metropolitane. E sarebbe stato aiutato da strutture di snodo, locali o di casteriali, per il raccordo verso le amministrazioni locali. Coordinandosi poi con il CERT nazionale che fa lo stesso mestiere, ma per le imprese cittadini, per il CERT della difesa e le strutture europee. Ecco, questo quadro nel 2017 è venuto a mancare, perché di fatto la struttura di CERT regionali, di casteriali e locali è stata cancellata. Quindi automaticamente sulle spalle del CERT PA ricade la responsabilità non soltanto delle circa 70 amministrazioni che costituiscono la sua costituenza originale, ma di tutte le 22 mila le amministrazioni che esistono, dall'asilo fino al Ministero dell'Interno, che vengono ovviamente servite in modalità best effort, perché non fanno parte formalmente della costituenza. Il CERT è stato creato nel 2013 e a regime nel 2015, opera all'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è stato inserito in tutti i circuiti di CERT internazionali e è una componente chiave però dell'architettura nazionale per la protezione dello spazio cibernetico del Paese. Facciamo monitoraggio continuo proattivo dell'intero spazio, del dominio .gov.it, nel senso che ci accorgiamo di minacce in corso, non abbiamo, attenzione, giurisdizione sulle reti delle amministrazioni, non abbiamo le console sulle reti delle amministrazioni, quello è fuori dalla nostra giurisdizione, noi vediamo quello che succede nello spazio, quindi cosa succede nell'underground, quali leak vengono creati, quali azioni si riverberano nello spazio cibernetico che hanno influsso su ciò che sta nel dominio .gov.it e forniamo supporto alla risoluzione incidenti quando un'amministrazione ci chiama, ce lo chiede. Questi sono gli accreditamenti internazionali che abbiamo, peraltro siamo autorizzati, usate il termine CERT perché siamo stati autorizzati dalla carne di melon, eroghiamo questi servizi, questo è lo stesso diagramma di prima, i servizi legati al CERTPA sono quelli che qui ho riportato in rosso, quindi sono sostanzialmente tutti quelli obbligatori e larga parte di quelli facoltativi, quelli che non eroghiamo sono o perché sono fuori dalla nostra giurisdizione, tipo la valutazione e certificazione di prodotti, c'è una struttura governativa che è l'ISCOM all'interno del Ministero del Sviluppo Economico che ha questo mandato e quindi non è compito del CERTPA farlo e business continuity eccetera, ma tutti gli altri servizi li eroghiamo alla nostra constituency. Facciamo tantissima analisi preventiva della minaccia, in questi anni abbiamo esaminato e quando dico esaminato, gli hanno esaminato i nostri analisti, le persone non le macchine, più di 7 milioni di indicatori di compromissione, quindi di indizi, che possono essere indirizzi P, URL, firme eccetera, relativi a minacce. Questi sono stati validati e sono stati riemessi, non solo come rielaborazione di segnalazioni di altre, ma anche come segnalazioni fatte direttamente da noi, circa 37 mila che sono considerati molto bene, sono molto ben considerati da tutta la comunità internazionale perché sono estremamente affidati. Abbiamo gestito comunque 2500 segnalazioni, anche se di solito siamo noi a avvertire un'amministrazione, guarda che avete un problema di cui non vi siete accorti, è più raro che l'amministrazione ci chiama dicendo ho un problema, datemi una mano. Abbiamo analizzato più di 17 mila malware, stiamo creando una piattaforma automatica per la trasmissione, completamente automatizzata fino al dispositivo finale, appunto degli indicatori di compromissione, in modo che non ci debba essere intervento umano per poter inserire all'interno degli ITS, IPS, firewall eccetera, le stringhe relative a una minaccia in corso in modo da accelerare i tempi di risposta quando ci sono campagne di attacchi massivi. C'è stato un gruppo di lavoro che ha sviluppato, diciamo questa piattaforma basandosi su protocolli standard, entrerà in esercizio per i mesi dell'anno prossimo e sarà disponibile gratuitamente per tutte le pubbliche amministrazioni che vorranno aderire. Facciamo tantissima condivisione di informazioni all'interno della nostra constituency, all'interno delle nostre community e delle community internazionali alle quali partecipiamo e siamo un fornitore attivo di informazioni, facciamo tantissime analisi di cui mandiamo in giro i risultati. Come ci si accredita? Formalmente la nostra constituency rimane quella delle amministrazioni centrali delle regioni delle città metropolitane, si possono accreditare loro o le società in house, ovviamente su richiesta formale dell'amministrazione, l'accreditamento è un atto puramente formale, serve a identificare un referente, un responsabile a cui poter mandare le comunicazioni, le comunicazioni vanno responsabili non sono tutte quelle che trovate sul sito del CERT, non necessariamente sono quelle pubbliche, serve un raccordo più stretto, se scopriamo una minaccia in corso verso un'amministrazione non dovremmo andare a cercare sull'elenco telefonico e telefonare per chiedere se ci passano qualcuno, dovremmo andare a colpo sicuro a sapere chi contattare, questo è l'accreditamento. Nei casi di accreditamento le mail viaggiano cifrate automaticamente alla nostra piattaforma, c'è la piattaforma alla quale diamo l'accesso all'amministrazione, la piattaforma sicura, gestita dal CERT PA con criteri di sicurezza molto stringenti, molto robusti, nel quale poi l'amministrazione accreditata può crearsi le proprie strutture interne e quindi poter, per esempio, se è un'amministrazione di snodo o è un consorzio o è un in-house può creare a sua volta sottostrutture con referenti diversi nelle quali noi non entriamo. Quindi forniamo un account, un'area riservata, un'attivazione del monitoraggio continuo sul dominio dell'amministrazione e garantiamo ovviamente tutte le informazioni preventive comprese quelle non pubbliche, comprese quelle riservate che riguardano la stessa amministrazione. e ovviamente il supporto dei specialisti del CERT. Questa cosa la garantiamo anche alle amministrazioni che non fanno parte della constituency, il supporto, i bollettini, eccetera, però in modalità best effort perché ovviamente la cosa è più complicata. Anche su amministrazioni che sono amministrazioni at large, quindi tipo università, è chiaro che le università hanno il loro CERT, che è il CERT-GAR, che funziona molto bene, sono molto bravi e col quale noi abbiamo un rapporto privilegiato, lavoriamo, collaboriamo da anni molto molto bene e quindi il supporto primario verso il mondo delle reti, della ricerca e dell'accademia lo dà il CERT-GAR, ma ovviamente collaboriamo anche noi su quel tema. Stiamo pubblicando alcuni tool per l'utilizzo da parte di chiunque, questo tool si chiama Infosec, è stato sviluppato da noi per scopi interni, per costituire il National Italian Vulnerability Database, questo è il core dell'infrastruttura con la quale facciamo le analisi dei malware, delle minacce e forniamo gli IOC agli altri analisti, lo abbiamo aperto da qualche mese in consultazione a chiunque, trovate l'indirizzo sull'ultima riga del testo nella slide, da diversi mesi è attivo, la grande maggioranza degli accessi a questo tool viene dall'Ester, che significa che è molto ben apprezzato dagli analisti di tutto il mondo, è un pochino meno conosciuto in Italia, vi invito, ovviamente è un sito molto tecnico, l'utente casuale non ci troverà molto di utile, ma invece un tecnico troverà informazioni estremamente importanti. Potete verificare l'attività del CERT su questo cruscotto, per cui quante cose vengono fatte, quante segnalazioni, bollettini, malware analizzati, eccetera eccetera, perché il CERT pubblica con trasparenza i dati della propria attività all'interno di questo portale che come sapete serve a fare, il monitoraggio dell'avanzamento della trasformazione. Io ho finito, questi sono i miei riferimenti e ovviamente adesso se ci sono domande sono a disposizione. Grazie mille Corrado, anche a te per la chiarezza dell'esposizione, nonostante il tema molto tecnico, la nostra attenzione è stata molto alta. Dunque le domande sono tante, ad alcune già hai risposto, quindi a livello di supporto e analisi della sicurezza in Italia, penso che già hai risposto ampiamente. Alcuni chiedono quanto costa la sicurezza per l'APA e se appunto finanziamenti e fare formazione e acquisto di strumenti aggiornati, questo risolverebbe le criticità della sicurezza informatica dell'APA? Allora, quanto costa è una domanda mal posta. Ci tengo a dire, per esempio, che le misure minime di sicurezza, che sono graduate su tre livelli, quello veramente minimo, quello standard, quello avanzato, e che sono proprio l'ABC delle cose da fare, fondamentali, sono state pensate proprio per costare il meno possibile. Al loro livello minimo si fanno con carta e penna, non bisogna comprare niente, bisogna semplicemente mettersi un pochino lì con un po' di buona volontà, un po' di organizzazione, ma non sono onerose a livello economico-finanziario, sicuramente un po' di organizzazione va messa in piedi. Nei livelli maggiori sì, probabilmente serve qualche adeguamento tecnologico. voglio dire, la sicurezza di solito costa in termini di effort, di lavoro, di procedure, di processi, di educazione, di sapere cosa fare. Poi le tecnologie si costano, ma non è necessariamente obbligatorio adottarle, probabilmente le amministrazioni già ce le hanno, le devono sfruttare meglio, devono mettere a fattore comune, in modo migliore la parte organizzativa, questa è la cosa più importante. Poi Maurizio Manzi chiede, il consolidamento dei data center delle singole PA verso quali strategici nazionali potrebbe aiutare a limitare i rischi? Assolutamente sì, quello è proprio un'iniziativa strategica di Agid, fatta proprio per ridurre quella che si chiama superficie d'attacco. Un survey ha indicato che nella pubblica amministrazione ci sono più di 6.000 data center, sono troppi, non si possono proteggere tutti allo stesso livello e questo è un grandissimo rischio. Quindi un'iniziativa assolutamente importante è il consolidamento, l'idea è quella di farli diventare 500, ospitati in poli che possano garantire la corretta protezione, proprio per questo motivo. Un'altra domanda di Massimiliano Gretco è, in caso di data breach la mancata adozione delle misure minime costituisce un aggravante per il garante? Allora, le misure minime sono state validate dal garante, nel senso che abbiamo fatto una consultazione non solo con il garante, ma anche con altre autorità, ma in particolare con il garante quando le abbiamo sviluppate, proprio perché volevamo che fossero in linea con il GDPR e con l'orientamento del garante. Però, ai sensi del GDPR conta quello che c'è scritto nella legge del GDPR, quindi formalmente per il GDPR non è obbligatorio l'adozione delle misure minime, è obbligatorio perché una pubblica amministrazione lo deve fare perché c'è la circolare 2.017 e l'agile che gli dice di farlo. È chiaro però che se un'amministrazione vuole dimostrare lo zelo, quello che si chiama la dirigenza del buon padre di famiglia e dimostra anche di aver adempiuto le misure minime è certamente un vantaggio. Non avere adottato le misure minime non espone di per sé a sanzioni da parte del garante, però certamente non è un indice di buona cura della parte di privacy, quindi sicuramente il garante non è contento. Ok, un'ultima domanda, Salvatore Messina chiede se CERT comunica con la polizia e i carabinieri per sanzionare i reati informatici. Allora, la domanda è sbagliata, nel senso che per esempio i carabinieri non c'entrano niente, la polizia c'entra sì e no, i reati informatici non vengono sanzionati, tutt'al più vengono perseguiti i colpevoli, è un'altra storia, comunque il senso della domanda è corretto e la risposta in generale è sì. L'ho accennato rapidamente nella mia presentazione, non avevo tempo di illustrare tutta l'architettura nazionale, ma il CERT è una delle strutture chiave dell'architettura nazionale per la protezione del spazio cibernetico e quindi coopera con le altre strutture per la prevenzione e il perseguimento non solo dei reati, ma di qualunque cosa, in particolare all'interno dell'architettura nazionale c'è il KNIPIC, che è una struttura della polizia postale, che ha la responsabilità proprio di combattere il cybercrime diretto verso le infrastrutture critiche e quindi c'è uno scambio costante di informazioni fra noi, la polizia, il ministero dell'interno, i militari, il comparto intelligence, perché tutta l'architettura nazionale, come tutti sanno, immagino, è situata all'interno del DIS, del Dipartimento per l'Informazione e Sicurezza, il comparto intelligence dell'Italia. C'è uno scambio continuo tramite delle strutture che si chiamano NSC, Nucle di Sicurezza Cibernetica, eccetera, che poi garantiscono anche la gestione delle eventuali crisi e la escalation anche a livelli politici nel caso servisse di gestire una crisi sistemica importante, come è successo per esempio recentemente nel famoso caso delle PEC, c'è stata addirittura una conferenza stampa del DIS che ha raccontato un po' il rituale, ma insomma con grande trasparenza hanno raccontato un po' che cosa è successo, è chiaro che in un caso del genere cooperano tutte le strutture interessate, fra cui proprio in quel caso il CERT vi ha avuto un ruolo importante, le strutture polizia e via di certo. I carabinieri non ci sono in questa struttura perché non hanno nessun mandato sulla cybercrime all'interno dell'architettura nazionale, i carabinieri si occupano di criminalità informatica come portato di altri tipi di reato, l'unica struttura di polizia competente per i reati informatici è appunto la polizia, in seguito alla legge di riordino e forza dell'ordine di una dozzina d'anni fa. Benissimo, Corrado ti ringrazio tantissimo, sono le 13.36 quindi direi di chiudere, è stato veramente molto interessante, insomma ci avete aperto un po' la mente appunto su questo tema che è molto delicato e su cui c'è sicuramente molto da fare. Quindi ti ringrazio, speriamo che ci siano altre occasioni, ringrazio anche Alessandro Sinibaldi che anche lui ha fatto un'esposizione molto chiara, ecco ti Alessandro, non so se vuoi aggiungere qualcosa, una conclusione o… E non ti… ecco, scusa? Ho detto Corrado è stato chiarissimo. Benissimo, va bene, io vi ringrazio e spero che ci siano altre occasioni di approfondimento. Buona giornata a tutti e ricordo che giovedì abbiamo un webinar sul fascicolo sanitario elettronico a tutti i nostri partecipanti. Grazie a tutti e buon pranzo, buona giornata. Grazie ancora. Arrivederci, grazie.